Sicuramente è stato un anno e mezzo bellissimo, per cui mi ha emofenato in senso positivo, nel senso che per me sarà un grande piacere tornare in un posto dove sono stato meravigliosamente, per cui rivedrò delle persone a cui sono molto legato, però dal riscaldamento sarò già un nemico per i colori correggesi. Oltretutto troviamo una squadra in grandi condizioni, troveremo un terreno pesante che probabilmente ci penalizza, ma io dico sempre che si gioca contro una squadra che ha 22 gambe come noi, 22 braccia, per cui è lì che si svilupperà la moderna battaglia che nei tempi passati erano le sfide fatte fra tribù, adesso abbiamo tutto addolcito con le sfide di calcio. Grazie. Grazie. Grazie.